Previsioni del tempo per martedì 7 settembre su Puglia, Basilicata e Molise. Situazione generale. La pressione tornerà temporaneamente a salire, favorendo così il ritorno a condizioni generali di bel tempo. Da segnalare tuttavia nuvolosità in prevalenza alta e stratiforme in transito dal corso della mattina. Temperature in lieve rialzo nei massimi, per lo più stabili nei valori minimi. Venti deboli o moderate il rinforzo dai quadranti meridionali, mari poco mossi o mossi bacini esposti. Vediamo ora le previsioni sulla Puglia. Giornata caratterizzata dalla presenza nel corso della mattinata di sole su gran parte del territorio. Cielo soleggiato che dovrebbe essere gradualmente sostituito da un parziale aumento della nuvolosità. Temperature in lieve rialzo nei massimi, per lo più stabili nei valori minimi. Venti deboli o moderate il rinforzo dai quadranti meridionali, mari poco mossi o mossi bacini esposti.